Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione delle 13.30 del notiziario di M.Terni Television. Ieri la Ternana ha comunicato al Comune di Terni la propria volontà di andare avanti con il progetto Stadio Clinica e noi abbiamo intervistato il Presidente Nicola Guida. Vediamo. Il progetto Stadio Clinica si farà, il motivo è semplice, poi lo scopriremo anche dalla via voce del Presidente del Club Rosso Verde Nicola Guida che abbiamo ospite il motivo dicevamo con il Presidente che proprio la Ternana ha detto sì, anzi lo ha messo per iscritto inviando la pecca alla Comune di Terni, giusto Presidente? Giusto, sì sì, è corretto. Andiamo avanti perché è un bel progetto, era già una fase avanzata e penso che sia un bel progetto per la Ternana e per la città di Terni, quindi per la Ternana Calcio in sé ma anche per tutta la città di Terni. È corretto dire dunque a questo punto che il progetto Stadio Clinica si farà? Penso che ti possa dire, certo. È corretto e procediamo con i prossimi step. È un po' emozionato dal sapere, dal pensare che sarà lei il Presidente del nuovo Stadio Liberati? Sì, sì, effettivamente sì, però in questo momento sono più concentrato sulle prossime partite di campionato, devo essere sincero. Nel senso che abbiamo, come sapete, otto partite da giocare, ci teniamo tantissimo e quindi sto pensando più a quello. Subito dopo seguirà l'avvio del progetto, quindi sono tante cose, tante cose in poco tempo, ma non è che appunto il tempo, scusate la ripetizione del termine, di pensarci. Perché veramente stiamo susseguendo tante cose insieme. Siamo ad andare a campionare in tutti i campi, per la società, per la Ternana, per la squadra, insomma ora siamo pensati alla trasferta di giro. Se dovessimo fare un cronoprogramma, inevitabilmente prima viene il campo, quindi la salvezza della squadra, poi si penserà... Sono due cose separate, ma non è che la salvezza o meno cambia qualcosa nell'altro progetto, però forse sono più concentrato la salvezza sulle partite, perché le vedo più vicine. Sono due cose separate che vanno, diciamo, parallelo o comunque sui binari diversi. Preoccupante a Terni la situazione sul versante case popolari, infatti la città ha il triste record di numero di appartamenti disponibili ma non assegnabili, circa il 40% del totale. È una situazione fuori controllo che va sbloccata al più presto, eppure in commissione consigliare non si sono presentati gli assessori competenti trattenuti da altri impegni istituzionali. Vediamo il servizio. Si sono riunite la prima e la seconda commissione insieme ai rappresentanti di Sunia, Sicet e Uniat, Matteo Lattanzi, Rossano Iannoni, Gino Bernardini e Jacopo De Santis, per discutere di edilizia residenziale e sociale a Terni, tema che danni in fiamma il dibattito cittadino. L'argomento è scottante alla luce delle quasi 700 domande presentate, delle quali solo una percentuale irrisoria ha avuto seguito. Indispettisce soprattutto che vi siano 344 alloggi disponibili nell'ambito del territorio comunale di Terni che potrebbero essere assegnati ma non lo sono per vizi formali o mancate messe a norma di impianti. Ci sono 690 domande per il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale e sociale e 74 alloggi in questo momento liberi ed assegnabili. Quindi è un numero che è totalmente spereguato rispetto a quello che è il reale e fa bisogno. Di contro a questi 74 alloggi ci sono 334 alloggi che sono liberi ma non assegnabili per mancanza di manutenzioni straordinarie. Scopo dell'incontro in Commissione? Sollecitare un maggior interessamento da parte del Comune affinché promuova un tavolo di confronto con la Regione e i sindacati per stabilire chi debba farsi carico del recupero degli alloggi disponibili e si chiariscano definitivamente le competenze relative alla manutenzione straordinaria per la quale l'interessamento dell'Ater non può avvenire in assenza di un impulso in tal senso proveniente dalle istituzioni regionali? L'assenza degli assessori competenti e la matassa di ingorghi burocratici quindi non ha scoraggiato i rappresentanti di sindacati e associazioni a tentare un ennesimo appello per sbloccare una situazione molto complessa e stantia che in assenza di un chiaro impegno e disponibilità di fondi non pare proprio destinata a risolversi presto. Incidente nel pomeriggio di venerdì in via del Rivo a Terni a poche decine di metri dal centro commerciale Il Polo un ternano di 40 anni in sella a una bicicletta è finito contro una Volkswagen App ferma in sosta di proprietà di una donna sfondando il lunotto posteriore del veicolo con il capo l'uomo inizialmente si era allontanato dal punto del sinistro ma poi è tornato sul posto sanguinante spiegando agli agenti di polizia locale di Terni che erano intervenuti sul posto la propria versione dei fatti ovvero che l'incidente sarebbe stato causato da un automobilista che lo avrebbe stretto sulla destra con il proprio veicolo facendolo finire contro quello in sosta danneggiato in seguito al violento impatto. Sono in corsa adesso gli accertamenti da parte degli agenti della Municipale Ancora una truffa è stata messa a segno in danno di una persona anziana a Gabelletta la vittima è una donna di 62 anni convinta a consegnare contanti e gioielli per un valore di 5.000 euro con il trucco del falso incidente del quale sarebbe rimasto vittima il figlio della donna Vediamo servizio Nuova truffa del falso incidente messa a segno a Terni a Gabelletta per la precisione e questo nonostante la massiccia campagna di prevenzione e informazione messa in atto dalle forze dell'ordine rivolta soprattutto alle persone anziane e nonostante la vittima dell'ultimo colpo sia una signora lucida e bene informata sulle modalità con le quali operano i truffatori a trarre l'inganno alla donna questa volta la telefonata fredda lucida e professionale di una persona che si è qualificata come maresciallo dei carabinieri tuo figlio ha causato un incidente stradale ha investito una persona che ora è in fin di vita lui è stato di fermo in caserma e se non vuoi che abbia problemi e finisca processo c'è da pagare a ricevere la chiamata del finto carabiniere è una donna di 62 anni il truffatore è abile ed esperto al telefono pronuncia il nome di suo figlio e fornisce elementi che la convincono a prendere provvedimenti mettendo mano a tutto quello che ha in casa costi quel che costi passano pochi minuti e al campanello dell'appartamento di strada di vagoti suona la persona che salverà il figlio della 62enne dai guai la signora ha tutto pronto gli consegna i 400 euro in contanti poi gli mette in mano la bussa con dentro anelli, bracciali, collane oggetti d'oro per 5.000 euro senza contare quello che valgono a livello affettivo lui ringrazia e se ne va la truffa, l'ennesima, messa a segno in città è andata a buon fine la vittima chiama suo figlio ma ormai è troppo tardi e l'ennesimo colpo è andata a segno la scorsa settimana se ne sono avuti due i finti avvocati hanno portato via gioielli e diamanti per un totale di 130.000 euro due le vittime una donna di 83 anni e l'altra di 75 nel primo caso i preziosi per 50.000 euro sono stati recuperati dalla postrata di caserta che ha messo le manette a due truffatori sull'altro episodio indaga invece la mobile a Orvieto continuano i teppisti a danneggiare le auto stavolta è toccata una Fiat 500 parcheggiata all'interno di un garage in piazzale Cimicchi con saracinesca quasi completamente abbassata eppure i teppisti di turno dopo essere entrati nell'area privata avrebbero alzato la saracinesca e avrebbero tirato un mattone sul vetro posteriore dell'auto non è escluso che si tratti della stessa gang che nei giorni scorsi aveva squarciato alcuni pneumatici con delle lame ad Assisi invece è stato arrestato un trentenne che in casa aveva panetti di fumo pronti per lo spaccio tramite osservazione, pedinamento e successiva perquisizione dell'appartamento le forze dell'ordine hanno ritrovato un chilo di hashish suddiviso in panetti pronti per lo spaccio che sul mercato avrebbero fruttato si stima circa 8 mila euro il trentenne è stato dichiarato in arresto per reato di detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato accompagnato alla casa circondariale di Perugia Capanne ed è in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto emergenza siccita alle porte sebbene l'Umbria pare stia soffrendo meno di altre regioni tuttavia sebbene la speranza si è riposta in nuove piogge primaverili la Coldiretti ha pensato a un piano per prevenire criticità dovute alla mancanza di risorse idriche vediamo nel dettaglio Ogni anno l'Italia sta perdendo l'89% di acqua piovana questi i dati resi noti dalla Coldiretti in occasione della giornata internazionale dell'acqua anche le anomale temperature invernali e le scarse precipitazioni hanno già causato problemi per deficit in laghi e fiumi destando preoccupazione serve subito una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio senza uso di cemento e in equilibrio con i territori per conservare l'acqua e distribuirla quando serve ai cittadini all'industria e all'agricoltura con una ricaduta importante sull'ambiente e sull'occupazione una situazione che si rende necessaria vista la situazione di siccità detorrenti che essendo secchi favoriscono il rapido defluire dell'acqua nel mare senza riuscire a trattenerla per questo insieme all'ambi la Coldiretti ha ideato un progetto cantierabile per realizzare una serie di bacini di accumulo veri e propri laghetti realizzati senza cemento ma con pietra locale con le stesse terre di scavo con cui sono preparati per raccogliere l'acqua piovana e utilizzarla in caso di necessità l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a raccogliere il 50% dell'acqua piovana per poterla utilizzare al posto di quella potabile in una molteplicità di altre occasioni un piano che garantirebbe acqua per i cittadini per le coltivazioni e per la produzione di energia rinnovabile il direttore regionale della Coldiretti Mario Rossi ha dichiarato che il bene acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza dell'ambiente e la competitività dell'intero made in Umbria agroalimentare L'Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Umbria ha compiuto 50 anni i festeggiamenti si sono tenuti a Palazzo dei Priori a Perugia c'eravamo anche noi vediamo vorrei proprio omaggio ad un'associazione che da 50 anni è vicina ai propri comuni un compleanno importante quello dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Umbria che ha voluto festeggiare in grande in una cerimonia che si è tenuta nei giorni scorsi presso la sala dei notari di Palazzo dei Priori a Perugia presenti tantissimi sindaci Umbri per questo momento di riunione e di festa se dovessi sintetizzare la mia esperienza in Anci Umbria in due parole direi mai solo queste sono un po' le parole che testimoniano l'essenza della nostra associazione che oggi celebra il suo 50esimo anniversario gli anni recenti sono stati segnati da sfide senza precedenti che ci hanno portato a ripensare il nostro modo di operare ad adattarci rapidamente ma anche ad essere uniti perché solo uniti è possibile superare e affrontare le difficoltà un bel lasso di tempo che credo però sia stato proficuo con tante esperienze di cui fare tesoro con tante tante belle personalità tanti bei colleghi che si sono avvicendati anche nei ruoli di responsabilità dalla presidenza e altri organi una bella struttura che nel tempo è cresciuta con all'interno competenza passione dedizione abbiamo come regione collaborato molto con tutti i comuni dell'Umbria in periodi particolarmente complessi come sono stati quelli naturalmente del covid ma abbiamo anche affrontato i momenti di opportunità che sono conseguiti a questa emergenza nazionale che sono dati dalle risorse del PNRR destinata agli enti locali e a tutta un'altra serie di misure che oggi dobbiamo affrontare insieme proprio perché riguardano la costruzione del futuro della nostra regione e dei nostri territori territori di cui i sindaci sono sicuramente custodi in termini di attenzione di sviluppo di sostenibilità e di cooperazione L'Umbria è una delle regioni più amate d'Italia con una realtà di comuni di borghi e una serie di problematiche legate anche alla difficoltà di tanti piccoli comuni ad avere risorse strutture personali adeguati alle loro esigenze e la nostra battaglia è proprio quella di non far sentire soli i comuni soprattutto le piccole amministrazioni di cui L'Umbria è ricca creando appunto una rete che non è solo una rete di solidarietà è una rete di collaborazione di scambio di progetti è una rete di condivisioni di strategie Il Laboratorio del Paesaggio di Avigliano Umbro organizza per domenica prossima 24 marzo alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale una giornata dedicata al cantautore Rino Gaetano in occasione della 29esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie l'appuntamento è stato fortemente voluto dalla rete libera fondata da Don Luigi Ciotti e ricordiamo che appunto il 21 marzo è la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie concerto e giornata in ricordo di Gaetano invece per il prossimo 24 marzo la stagione dei cosiddetti poetry slam è tornata al B-side di Terni e l'ultima competizione ha visto sfidarsi ben sette artisti di cui tre provenienti da fuori regione ecco il servizio creature aliene incredibili irreali figure gentili celestiali incommoventi presenze per cui dire adottateli falsità i tre pilastri della società li vedo ovunque li vediamo ovunque la tua anima atlantidea un'animella carica di stile e metalli pesanti se poi ci ritroviamo a dover ascoltare il prossimo rimaniamo petrificati con gli occhi impegnati a guardare altrove e con lo dito che si impossessa di pensieri astratti e ci fa perdere poi la connessione ci fa recitare dai che sei forte una serata emozionante e ricca di colpi di scena quella che si è tenuta al B-side organizzata dal collettivo ternano di scrittura Catena e che ha visto la partecipazione di artisti provenienti anche da Roma Perugia e Firenze stiamo parlando della nuova stagione del Poetry Slam ternano ormai inserito all'interno del circuito nazionale dell'IPS Lega Italiana Poetry Slam e che garantisce un biglietto d'accesso alle selezioni pre-regionali sette concorrenti tra cui anche tre esordienti si sono sfidati in due turni prima di una finale avvincente giudicati dal pubblico con voti da 1 a 10 espressi con un gessetto su una lavagnetta di Ardesia alla fine medaglia di bronzo pergere performer proveniente da Firenze Francesco Mastro Stefano giovane di Latina si è aggiudicato il secondo posto e l'accesso al prossimo turno del circuito nazionale a vincere è stato come in molte altre occasioni il ternano Francesco Costantini termina così questa edizione del notiziario di Ameterni Television grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni